La mostra L'inquietudine del volto da Lotto Freud e da Tiziano De Chirico rappresenta un'opportunità e al tempo stesso una sfida per il territorio. È un'opportunità perché ha permesso l'incontro tra due istituzioni principali del territorio lodigiano, ovvero la provincia di Lodi e il comune capoluogo e dall'altro ha permesso anche il coinvolgimento di uno sponsor privato come quello della Banca Popolare Italiana che permette concretamente la realizzazione di un vero e proprio evento nel lodigiano. È anche una sfida perché insieme alla mostra in sé verranno proposte tutta una serie di iniziative che permetteranno di guardare oltre i nostri confini. L'obiettivo infatti che ci poniamo è di portare l'immagine di Lodi attraverso la comunicazione legata a questa grande mostra oltre i nostri confini e costituisce sicuramente un aspetto unico nel panorama dell'esperienza lodigiana. Infatti noi con questa iniziativa ci leghiamo a pieno titolo a quello che sono le grandi iniziative culturali che oggi vendono i centri anche delle stesse dimensioni di città come Lodi Lanciarsi sul panorama nazionale. L'idea stessa di considerare la mostra organica al territorio permette una serie di iniziative collaterali. Innanzitutto l'attenzione è rivolta alle scuole. L'obiettivo di questa mostra oltre a far conoscere i grandi maestri dell'arte dal 500 al 900 è anche l'occasione giusta per i bambini per approcciarsi a un evento di questa portata e successivamente elaborare le informazioni e le emozioni che ricaveranno dalla mostra. Infatti presso la sede della provincia di Lodi e quindi anche da questo punto di vista è un'occasione importante per far conoscere al territorio la nuova sede della provincia, quale punto di riferimento istituzionale per il lodigiano, verranno realizzati due tipi di laboratori didattici rivolte alle scuole elementari e alle scuole medie. In uno di questi laboratori verrà affrontato il tema dell'espressione, ovvero ai bambini verranno fornite le informazioni tecniche di base per poter realizzare loro stessi un ritratto oppure un autoritratto. Nell'altro laboratorio verranno più propriamente elaborate le informazioni ricevute alla mostra e cioè una sorta di giochi di ruolo per cercare di capire da un lato l'evoluzione che ha avuto il ritratto nel corso del tempo, ovvero da espressione di nobiltà, di forza a momento per ritrarre anche gli umili, a momento anche irriverente e sarcastico nei confronti dei potenti di allora e la possibilità di medesimarsi proprio in questi personaggi, cercare attraverso i giochi di ruolo e di dare un significato all'espressione ricevuta e alle emozioni ottenute nel corso della mostra. L'aspetto della comunicazione verrà sicuramente a giocare un ruolo determinante. Da questo punto di vista abbiamo realizzato anche una serie di pacchetti turistici, rivolte in modo particolare a diverse fasce d'età così da soddisfare le esigenze di tutti, per permettere insieme alla visita alla mostra anche la possibilità di conoscere il territorio lodigiano nel suo complesso. Di fronte alle varie proposte che noi offriremo complessivamente ci sono occasioni sia per i più maturi e anche per i più giovani perché è un'occasione sicuramente importante considerando anche il periodo della mostra che è quella dal 12 di novembre al 12 di febbraio, rientriamo anche nelle vacanze natalizie, quindi l'occasione per scoprire i centri culturali minori, cosiddetti rispetto alle grandi città, è un'occasione importante anche perché si sta affermando sempre più la volontà e la voglia di conoscere anche realtà meno proporandate come sono le grandi città italiane. Questa sfida sicuramente può essere vinta dal territorio lodigiano. L'obiettivo di fondo è quello di convolgere complessivamente il territorio. L'invito è quindi rivolto in modo particolare alle realtà culturali dell'odigiano. Le biblioteche, le associazioni, i comuni nella loro espressione degli assessorati alla cultura possono sicuramente realizzare iniziative significative, tra l'altro anche collaborando con la provincia stessa nella organizzazione delle visite, dal momento che sono a disposizione dei cittadini tutta una serie di agevolazioni, non ultima quella collegata al biglietto stesso della mostra che permette degli sconti significativi all'interno dei ristoranti, degli esercizi commerciali convenzionati alla mostra e anche attraverso i trasporti. È infatti presente una convenzione con la Line Trasporti che vi permetterà di organizzare la visita alla mostra a prezzi assolutamente convenienti. Questa sfida, dicevo, è importante per tutti noi. Raggiungere un obiettivo di livello nazionale, ovviamente ottenerne successo, è una condizione che può permettere all'Odigiano di fare quel salto di qualità che tutti auspichiamo. Infatti la buona riuscita di questa iniziativa presuppone anche la possibilità di metterne in campo altre e così collegare stabilmente l'iniziativa dell'Odigiano al pari delle grandi iniziative che coinvolgono oggi il mondo culturale a livello nazionale.